Sono con Jacopo Portunato, Sales e Strategy Manager di WinTrade ed Elisa Tezza, Project Manager di WinTrade che hanno seguito la preparazione, la predisposizione del nuovo portale di feder congressi ed eventi. Un nuovo strumento di comunicazione che permette di dare visibilità ai soci e permette una relazione tra gli associati in un nuovo modo innovativo attraverso il digitale. Chiedo a Jacopo quali sono le opportunità che questa nuova piattaforma ci può dare? La nuova piattaforma avrà tutte le caratteristiche tipiche di un sito, di un portale dei giorni nostri. Quindi sarà totalmente responsive e quindi utilizzabile e fruibile da qualsiasi dispositivo, soprattutto i dispositivi in mobilità. La progettazione infatti è proprio mobile first, quindi parte proprio da quello che è la fruizione attraverso il proprio smartphone. Completamente personalizzabile, i contenuti verranno presentati in modo molto semplice, intuitivo. Quindi qualsiasi utente che si approccerà al sito avrà facilità nella navigazione e nel costruire una propria esperienza. I soci avranno tutte le opportunità di personalizzazione, quindi potranno presentare la loro vetrina in modo chiaro, intuitivo, geolocalizzato, quindi mostrando chiaramente dove si trovano geograficamente, utilizzando contenuti testuali ma anche multimediali, quindi attraverso foto, immagini e video, in modo davvero molto molto semplice. Grazie Jacopo. Questo portale ha come necessario per la nostra associazione un'area riservata all'interno della quale possiamo trovare dei contenuti che sono fondamentali per i soci. Chiedo ad Elisa Tezzi invece di illustrarci come funziona quest'area e quale opportunità potrà dare ai soci di Feder Congressi. La nuova area riservata di Feder Congressi darà l'opportunità a ciascun socio di accedere, anche in mobilità, riprendo l'aggancio di Jacopo, a questa nuova area dove avrà la possibilità di consultare documentazione e di gestire la propria vetrina online attraverso gli strumenti a disposizione e avrà anche inoltre la possibilità di interagire con Feder Congressi attraverso un FCE risponde creando una domanda che poi verrà gestita all'interno dell'iter di Feder Congressi dallo staff e alla quale verrà poi dato un seguito con una risposta anche essa fruibile e gestibile poi all'interno di quest'area riservata. Ciascun socio ha inoltre l'opportunità di presentare la propria offerta agli altri associati attraverso questa vetrina sempre in area riservata. Ecco, tutto qui. Direi che... e poi le implementazioni verranno da sé perché è un sistema comunque aperto che avrà possibilità nel tempo di crescere. Elisa mi dà lo spunto per dire che questo sistema ci permetterà di gemmare dal sito principale dei mini siti perché la piattaforma ci consente di fare questa attività in autonomia quello che voi ci mettete a disposizione è una piattaforma che ci permetterà di produrre tanti siti internet quanti sono i progetti che Feder Congressi ha quindi grande autonomia, grande indipendenza e grande possibilità di comunicare tutte le attività che vengono fatte. Io ringrazio WinTrade per la loro collaborazione e dico avanti tutta perché vogliamo vederlo al più presto online. Possiamo dire prima dell'estate saremo presenti con questa nuova comunicazione? Lo possiamo dire. A presto allora.